Buongiorno, mi chiamo Luca Tonon, sono l'amministratore delegato della Tonon SRL che si occupa di fabbricazione e di installazione di attrezzature per il settore alimentare e medicale. Il mio ricordo legato al momento in cui ho scelto di intraprendere un percorso professionale nell'azienda familiare è stato quando ho scoperto parlando appunto con mio padre che c'era la possibilità di esportare il prodotto principale dell'azienda che era scaffalatura in alluminio plastica. Ho lavorato all'estero in Inghilterra e in Francia dove ho potuto imparare tre lingue che parlo correntemente e ho approfittato di queste mie conoscenze per iniziare una crescita delle vendite all'export della Tonon SRL. La nostra vision aziendale è una vision che va fino al 2030, stiamo cercando di rendere sempre più sostenibile l'azienda, già il nostro prodotto della nostra produzione sono al 100% riciclabili e stiamo investendo in nuovi macchinari e in nuove tecnologie che aiuteranno questo processo. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di diventare leader nella produzione di scaffalature per celle frigorifere e ci piacerebbe tanto che i nostri clienti potessero chiedersi ma tu ce l'hai in Tonon in cella? Il nostro incontro con Cerved è avvenuto durante la pandemia, poi abbiamo deciso di investire nella nostra visibilità social su LinkedIn con Execus, un altro servizio di Cerved e adesso abbiamo aumentato il nostro ranking SEO nei motori di ricerca grazie al servizio Viola con il quale abbiamo intrapreso un percorso circa sei mesi fa. Avevamo delle criticità sul nostro sito internet nella parte SEO proprio per mancanza di conoscenza dei tecnicismi del mondo che sta dietro un sito internet e quindi Cerved ci ha aiutato fin da subito spiegandoci che non bisognava mettere certe parole perché quando tu cerchi su Google ne cerchi altre giustamente e quindi fin da subito abbiamo potuto migliorare il nostro ranking e di visibilità sui motori di ricerca come Google e Yahoo. I benefici concreti che Cerved ha dato alla nostra azienda sono sicuramente la visibilità in mercati remoti come gli Stati Uniti o addirittura l'Australia dove la clientela controlla soprattutto l'attività sui social delle aziende in quanto il sito internet potrebbe essere attivo anche se l'azienda è stata ormai chiusa da anni. Avendo un catalogo di 190 pagine e considerando un prodotto a pagina abbiamo scoperto grazie a Execus che abbiamo 190 attività da presentare ai nostri clienti. I risultati raggiunti insieme a Cerved sono stati sicuramente quelli di aver raggiunto delle persone, dei clienti, dei prospetti in zone remote anche Australia e Stati Uniti che sarebbe stato impossibile raggiungere in presenza vista la pandemia e Tonone è sempre stata molto attiva con le fiere internazionali che chiaramente sono state tutte annullate in questi ultimi due anni e sicuramente quando si potrà riprendere a viaggiare e lavorare come periodo pre pandemia questi risultati ottenuti grazie a Cerved verranno sicuramente duplicati o addirittura triplicati. Ringrazio Cerved per l'aiuto in questo periodo difficile di pandemia e come dico sempre citando un motto africano se vuoi correre veloce corri da solo ma se vuoi andare lontano corri in compagnia.